Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Le origini segrete della città ideale di Maurizio Silvestri Seconda puntata Tratto dal libro I Medici, origini esoteriche e misteri di Livorno Qualcosa di simile alle leggi livornine emanate da Ferdinando il 10 giugno 1593 leggi che hanno contribuito a popolare una zona in gran parte palodosa e malsana si leggerà solo nella Costituzione americana, 200 anni dopo Non c'è da meravigliarsi perché i principi fondamentali che hanno ispirato i medici e i padri fondatori degli Stati Uniti hanno molti punti in comune Elementi alimentati da un fuoco di libertà che potesse ardere purificandolo un mondo ormai ritenuto intollerante sottoposto a rigido controllo della Chiesa Romana e dell'Inquisizione Un nuovo mondo dove possano convivere tutte le religioni, tutte le razze e prosperare insieme Ecco perché il Monumento dei Quattro Mori, simbolo della città del futuro sopravvive nei secoli e ben si inquadra con lo spirito dei Livornesi Libero come i gabbiani che gridano sulla città in tutte le ore del giorno e della notte Illuminata dalla stella del mattino, Venere o Merica come la chiamavano gli Egizi e i Sumeri e i Mandei che vedevano in lei la stella della Rinascita La stella che indicava, lo sostenevano gli antichi, un mondo nuovo migliore di quelli conosciuti Quella stella l'ha seguita Cristoforo Colombo, ma l'ha anche immaginata a bontalenti l'architetto che ha disegnato la pianta della nuova città di Livorno a forma di pentagono il simbolo della stella del mattino Un pentagono nel quale è iscrivibile l'uomo vitruviano, ripreso da Leonardo orientato verso il riferimento spirituale più vicino, Montenero sede del santuario sorto a poca distanza da Livorno dove apparve, secondo la leggenda, la Madonna col bambino Un solo filo conduttore, un'unica anima sono il segreto delle origini di Livorno Libertà, tolleranza e giustizia Nel nome di un unico dio che può essere Allah, Yahweh o semplicemente un grande architetto dell'universo, come dicono i massoni Ecco perché le Livornine anticipano la Costituzione Americana e la Rivoluzione Francese Ecco perché Mazzini fonda qui uno dei suoi principali centri carbonari e dice di sentirsi sempre vicino alla città dei Quattromori Lui che studi cattolici vogliono appartenente alla fantomatica setta degli Illuminati un'organizzazione mondiale che avrebbe perfino il controllo della massoneria con lo scopo di arrivare a un unico governo mondiale Non si sa se Mazzini, come del resto Marx, come dicono sempre fonti cattoliche siano stati o meno membri di tale setta Ma di sicuro Mazzini non faceva mistero del suo progetto di unificare l'Italia poi l'Europa e infine tutto il mondo in un'associazione libera e tollerante Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it